Giuseppe Scaringella, direttore artistico del Giardino del Mago. Scaringella, sei fantastico! Number one! Number one! Number one! Number one! Giuseppe Scaringella, gialla, 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 gialla. E vi renderà il vostro giorno solo unico. Speciale. Sì, non ci hai fatto una bambina? Spera, ciao! E qui c'è il Bel Massimo. Bel Massimo. Bel Massimo. Poi possiamo andare a dormire. Poi possiamo andare a dormire tranquillamente. Oggiāöhi, bōyā bai lāyāy! Vibì lī vī lā la-la lā! Voi a dormire, bōyā gōsā! Vibì lī vī lā lā lā! Saris da. La domanda da smettere Gisela, perché noi ci gratisiamo. Benissimo, non poteva andare bene. Bravissimo. Giuseppe, sei stato un grande, grazie di tutto, ci hai fatto divertire alla camera. Tantissimo! Grazie, Giuseppe. Grazie, vi posso dire. Grazie, Giuseppe. Giuseppe, sei stato un grande, 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 grande. No, mi sono chiuscata in genere, bravissima. L'ho scelta perché costa poco, costa poco, costa poco. E' buon giro. E' stata una bella festa, divertentissima. Sei grande, grazie. Grazie.